Una delle strade più importanti della città continua ad animare accesi dibattiti nella piazza virtuale delle social network. La strada in questione è il Corso Vittorio Emanuele, che con i suoi lavori di ripavimentazione al via dello scorso 8 settembre ha sollevato non poche polemiche, quali la chiusura del traffico in centro e il relentamento dei lavori in corso tra commercianti, automobilisti e cittadini nisseni. Nella pubblica piazza delle Mondo Web pare infatti che numerosi utenti postino nei loro profili le foto di una grande piazza con dei lavori in corso che non sembrano più proseguire. Questa mattina infatti scendendo nella piazza reale della città i lavori sembrano davvero essersi fermati, nessun operaio presente in cantiere. Raccogliendo le opinioni dei commercianti e dei cittadini del centro sembra infatti che da alcuni giorni il cantiere abbia smesso di lavorare. Numerose le preoccupazioni soprattutto tra i commercianti che temono un ulteriore rallentamento della fine dei lavori prevista per il prossimo febbraio 2015. La situazione è un po' strana, noi ufficialmente non abbiamo delle informazioni ben precise da parte dell'amministrazione comunale però dobbiamo sicuramente evidenziare che venerdì il cantiere è stato fermo, lunedì c'è stato un inizio di lavori ma solo con un numero notevolmente ridotto di operai e oggi nuovamente è fermo. Sicuramente riteniamo che ci saranno delle problematiche dal punto di vista progettuale però ufficialmente da parte dell'amministrazione comunale non abbiamo alcuna notizia. Questo chiaramente ci sta veramente danneggiando e siamo molto amareggiati di questa situazione e a breve ne chiederemo conto al nostro caro sindaco perché effettivamente si parlava che questi lavori dovessero essere completati con una certa celerità invece non si sta nemmeno lavorando nella ordinarietà, nella normalità di un cantiere di lavoro. Quindi sicuramente siamo molto preoccupati e vedremo a breve quali saranno le soluzioni per poter risolvere questa problematica. Tra i cittadini invece c'è chi sostiene che nella giornata di lunedì alcuni operai della ditta appaltatrici erano al lavoro, c'è invece chi afferma che i lavori sono fermi da venerdì. Perché l'hanno fermato? Caltanissetta si ferma pure la vita, non nel lavoro del Corso Umberto, si ferma pure la vita qua. Merito dei nostri dirigenti, manager, dirigenti, lasciamo perdere. Queste cose a Caltanissetta succedono molto facili e volentieri. Non solo quello, tutto ciò che ci circonda. Corso Vittorio Emanuele, non sono di questa zona, quindi non penso assolutamente nulla. Spero che finiscano il prima possibile. Ma io penso che forse sarà qualche cosa momentanea, perché ho visto che sono lavori finanziati dalla comunità europea e se non si fanno il lavoro si perdono i soldini. Però precisamente non lo so perché bisogna parlare con qualcuno competente. È un disturbo naturalmente per adesso, per quelle che ci abitano, ma un domani dovrebbe essere una cosa buona per tutti. La condotta dell'acqua è stata legata, eppure le fognature attaccate ai pozzetti. Quindi volendo si potrebbe sviluppare il lavoro anche un pochettino prima di febbraio. Hanno iniziato a svuotare tutti quei materiali, le pietre che c'erano, e già l'hanno reso quasi libero. E forse dovranno cominciare ora con le banchine. Speriamo. Le consegne dei lavori sono previste per fine febbraio. Quindi fino a ieri lavoravano perché toglievano terra. Forse hanno tempo e allora vanno a rilento. Intanto i responsabili dell'ufficio tecnico rassicurano alla cittadinanza che i lavori non ci sono arrestati, ma che la ditta sta cercando di risolvere il problema delle quote della pavimentazione per fare defluire l'acqua. Pare infatti che si dovrebbero realizzare ulteriori rilievi per la canalizzazione idrica. Grazie.